Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video, io sono Efrem e questo è Garage19 Panda 169 1003 Multijet, vi descrivo brevemente il problema E' successo che tutto ad un tratto l'auto non partiva più, ovvero il motorino d'avviamento girava Ma il motore non si riusciva ad avviare La prima cosa che ho provato a fare è farla partire con un'altra chiave, con la seconda chiave Perché può succedere che si decodifiche e quindi non fa accendere l'auto Casualmente, sottolineo, casualmente con la seconda chiave partita Quindi ho pensato che fosse appunto o la chiave o un problema all'immobilizer Anche perché a tratti funzionava, a tratti no, decideva lei Inoltre a motore acceso, a tratti tutto normale, alcune volte invece girava a tre cilindri Quindi c'era sicuramente un problema Andando ad effettuare ovviamente la diagnosi, la prima cosa da effettuare per cercare di individuare un problema L'errore indicato era al sensore di posizione dell'albero a camme Questo a cascata ha provocato altri problemi, altri errori precedentemente descritti Quindi non fare accendere l'auto perché la centralina legge un errore di posizione dell'albero a camme Quindi per protezione non fa avviare il motore Così come il malfunzionamento del sensore stesso a motore acceso Provoca lo scoppio non corretto tra i vari cilindri Appunto perché il sensore non indica la posizione esatta dell'albero a camme Ad ogni modo quello che andremo a fare è provare a pulire il sensore stesso e i contatti prima di sostituirlo Ma già vi anticipo che alla fine lo abbiamo dovuto sostituire Vediamo subito insieme Ma prima di iniziare come sempre Like, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video E mi raccomando a fine video vedremo una procedura da effettuare tramite scanner OBT Dopo la sostituzione del sensore stesso Appunto per adeguare i valori letti dalla centralina Ed eccoci qui nel vano motore Come prima cosa scolleghiamo il cavo negativo della batteria Cosa da fare sempre prima di effettuare lavori su parti elettroniche Quindi prima di andare a scollegare connettori, cavi e così via Passiamo allora a rimuovere la copertura motore in plastica Che funge anche da cassa filtro e parte del collettore di aspirazione d'aria E così stacchiamo il connettore del debimetro insieme alla sua fascetta che lo tiene attaccato In modo da poter scalzare appunto la protezione in plastica Ed ecco qui che si vede immediatamente il nostro sensore di posizione dell'albero a cam Andiamo a controllare, vediamo che non ci sia qualche cavo staccato o comunque danneggiato Ma sembra tutto a posto, c'è persino la copertura corrugata originale Quindi procediamo a staccare il connettore Arretriamo la linguetta gialla di protezione Successivamente premiamo il connettore e lo arretriamo in modo da liberarlo Come prima cosa proviamo a pulirlo prima di sostituirlo Quindi utilizzando del detergente contatti andiamo a spruzzarlo sui pin dei connettori E allo stesso modo andandolo a smontare Risvitiamo il bulloncino che lo tiene attaccato E puliamo il sensore stesso utilizzando un pulitore apposito per corpi farfallati Giusto facciamo questa prova per toglierci ogni dubbio Quindi lo rimontiamo, lo ricolleghiamo il tutto Azzeriamo tramite diagnosi l'errore precedente per evitare che la centralina rimanga in protezione E proviamo ad accendere l'auto Ovviamente ricordandoci di ricollegare il cavo negativo della batteria Come avete potuto notare nulla, il motore non si avvia Rifacendo una diagnosi vediamo che si è ripresentato nuovamente il solito errore Che vedremo alla fine del video E allora possiamo procedere a sostituire e montare il sensore nuovo Ricordandoci magari anche di applicare un leggero strato di grasso sulla guarnizione nuova Ricordandoci magari anche di piccolo Rimontato e ricollegato tutte le cose che avevamo tolto precedentemente nello smontaggio Passiamo alla nostra diagnosi, colleghiamo al nostro scanner OBD E tramite il multi-eq scan andiamo innanzitutto a leggere gli errori Come vedete è presente, vabbè, tralasciando un errore alla valvole GR che è sempre presente Vediamo appunto un errore sulla chiave elettronica e sulla centralina Wasta Dovuto ai due errori critici P0340 Che sono dei segnali non pervenuti della fase motore Nello specifico il sensore di posizione dell'albero a camme che abbiamo appena cambiato E allora quello che dobbiamo fare è spostarci nella sezione adeguamento Ed effettuare un azzeramento dei parametri della centralina Quindi azzeramento funzioni autoapprese Per resettare i valori derivati dai segnali che la centralina legge e successivamente elabora Una volta effettuato l'apprendimento possiamo ritornare ai nostri errori e ovviamente cancellarli Quindi eliminiamo tutti gli errori memorizzati e abbiamo concluso Bene anche questo video finisce qui Come sempre like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili Così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon Tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto Perché verrà riconosciuto una piccolissima percentuale sull'acquisto E aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo Ti ricordo inoltre che sono presente anche su Instagram e TikTok Passa a dare un'occhiata Trovi sempre qui sotto in descrizione i link ai profili Grazie e alla prossima